Vediamo qui Erode che aveva questo dubbio, Erode diceva ma chi è Gesù? Forse Giovanni, forse Elia, forse uno dei profeti, invece è stato specificato che lui è Dio Onnipotente. Allora vediamo se c'è qualcuno tra di voi, ci sono delle persone che sono entrate e uscite, il cellulare ha iniziato a squillare all'improvviso e quando è stato specificato che il Signore Gesù è l'Onnipotente, ma noi ringraziamo il Signore che perché attraverso la sua parola non c'è nessun dubbio, ci sono più di 160 versetti nella scrittura che ci indica che lui è l'Onnipotente. Nei Colossesi al capitolo 2 dice che in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità, quindi Gesù è il creatore, oltre al fatto che lui stesso ha detto io e il creatore siamo una cosa sola, lo ha detto nel Vangelo secondo Giovanni, io e il creatore siamo una cosa sola. E allora vediamo se c'è qualcuno tra di voi adesso che ha qualche domanda da fare, alzi la mano!